Sono passati 30 anni però ricordo sicuramente tramandato da genitori, zii, parenti e ancora molto vivo. Ricordo bene perché nel prato, giardino, da parte dell'abitazione di Leno dove abito tutt'oggi, era stato allestito una specie di sorta di grande area di atterraggio per gli elicotteri. In quel periodo le strade sia della valle che dell'alta valle erano interrotte, e di conseguenza quasi tutti i collegamenti sia ordinari che di emergenza venivano gestiti con elicotteri. Ho ancora a casa delle fotografie che sono state conservate, fatte da mio padre e da mia madre, nelle quali si vedono i grandi elicotteri a doppio rotore che imbarcavano, sbarcavano viveri, generi prima necessità e poi imbarcavano le persone che dovevano essere portate a valle e da lì c'era tutto questo via vai che ancora oggi ricordo per tutti i ricordi che mi sono stati trasmessi dai miei pareti. In Valbrembana sono cambiate tante cose, è innegabile dire che 30 anni non sono passati per nulla, sono stati fatti tantissimi interventi, è nata la protezione civile, in Valbrembana c'è un gruppo molto folto che conta oltre 400 unità, perciò c'è un gruppo che può lavorare. Per quanto riguarda la prevenzione di sesto del zoologico, che è quello di cui stiamo parlando, c'è ancora tantissimo da fare, servono tante risorse, la legge Valtellina ha risolto tanti problemi, ma purtroppo non tutti. La legge Valtellina era datata 1990, sono passati perciò tanti anni, 27 da quella legge, oggi forse è bisognoso pensare non solo per la Valbrembana ma per tutto il territorio montano, una nuova legge che va ad intervenire, a dare incentivi, proprio per interventi di prevenzione sul disesto del zoologico, perché lo sappiamo, intervenire prima costa, però costa sempre di meno che intervenire dopo e chiaramente tuteliamo anche la nostra popolazione.